Vincere con due reti di scarto e puntare diritto alla semifinale. Con questo obiettivo scenderà in campo domani pomeriggio il Gela Calcio nella terza giornata del triangolare di Coppa Sicilia. Sulla loro strada, gli uomini di Mr. Peppe Misidi questa volta troveranno la formazione del Megara Augusta, già fuori dai giochi e che verrà nella città del Golfo senza troppi pensieri ma con la voglia comunque di onorare la competizione. Una sfida sulla carta agevole per Messana e compagni che non intendono minimamente sottovalutare gli Are Tusei. Dopo la bella rimonta di domenica scossa contro il mio Pozzallo, gara lo ricordiamo conclusa con il pareggio per 2-2 grazie alla rete di Nicotra e Mezzasalma, la squadra tanto cara al presidente Angelo Tuccio ha in mente un solo obiettivo, vincere e continuare nel sogno Coppa dopo aver raggiunto con largo anticipo il passaggio nel campionato di promozione. Per noi domani è fondamentale per accedere alle semifinali, i ragazzi si sono allenati benissimo tutta la settimana, ho visto una squadra carica per affrontare questa Megara Augusta e per portare in porto i tre punti. È una buona squadra, è una squadra di prima categoria, è una squadra che ha dato filo da torcere anche il Pozzallo, quindi noi dobbiamo stare attenti, siamo convinti, anzi sono convinto che la mia squadra sicuramente farà bene. Non saranno della partita perché squalificati il difensore Francesco Italiano e il centrocampista Ivan Comandatore, assenzi importanti ma che comunque non impensieriscono l'allenatore bianco-azzurro che può disporre di una rosa ampia. Con l'assenza di Italiano c'è Runza che ha sempre dimostrato di sopperire alla mancanza di Italiano anche in passato e per quanto riguarda Comandatore abbiamo anche ricambi a posto suo e quindi hanno fatto tutti bene. La gara, lo ricordiamo, si giocherà domani pomeriggio lo stadio Vincenzo Presti a partire dalle 16.30 con ingresso gratuito.